In questo capitolo vedremo le novità introdotte nella versione CS5 di After Effects. Una delle novità più importanti di After Effects CS5, così come di Premiere Pro CS5, è il fatto che sono stati completamente riscritti e adesso lavorano in modalità nativa 64 bit. Da una parte questo significa che, se abbiamo dei vecchi computer basati ancora su Windows o su Mac OS a 32 bit, saremo costretti a sostituirli, poiché non è possibile installare queste nuove versioni su un sistema a 32 bit. D'altro canto, il vantaggio che ne otteniamo è che, avendo un'applicazione che sfrutta in maniera nativa i 64 bit del sistema operativo e dell'hardware, possiamo ottenere delle prestazioni molto migliori. Innanzitutto prestazioni pure in termini di capacità di elaborazione, poiché i processori a 64 bit sono in grado di elaborare più informazioni e quindi sono più veloci nell'esecuzione. Inoltre ormai la maggior parte dei processori moderni sono dotati di più core e After Effects supporta correttamente l'utilizzo di questi core, tutti quelli che ha a disposizione. Oltre questo, l'utilizzo di sistemi operativi a 64 bit ci consente di sfruttare più RAM rispetto ai sistemi a 32 bit. È possibile avere sistemi con installata più di 16 GB di RAM o 32 GB di RAM e questo dà ad After Effects la possibilità di lavorare agilmente sia con file di dimensioni molto grosse, vedremo è stato inserito il supporto per il codec RED in formato nativo, quindi la possibilità di lavorare a 2K o a 4K, quindi a risoluzione da cinema. Dall'altra parte abbiamo la possibilità, con così grandi quantità di RAM, di sfruttare dei RAM preview più lunghi e quindi di riuscire ad ottenere un flusso di lavoro più fluido e con meno interruzioni. Quindi, sebbene vedremo che le novità vere e proprie, intesa come nuove funzioni, all'interno di After Effects non sono moltissimi, è fondamentale il fatto che sia stato riscritto perché con un semplice aggiornamento ci troveremo ad avere un'applicazione che lavora in modo completamente nuovo, con prestazioni molto migliori rispetto a prima e con la capacità di sfruttare a fondo qualunque hardware gli venga fornito. Se abbiamo la possibilità di lavorare su macchine di fascia alta con 16 o 32 processori e 16 GB di RAM o più, avremo la bella sorpresa di vedere After Effects sfruttare a fondo tutte queste risorse.